Provate a immaginare, 25 anni fa come oggi cosa stavate facendo? Sicuramente qualcosa di completamente differente da quello che state facendo al giorno d'oggi. Ebbene si sono passati 25 anni, un quarto di secolo, quello che divide la prima CBR 900 RR 5 dall'ultima, la più recente, che abbiamo provato pochissimo tempo fa. 25 anni in cui le moto supersportive si sono evolute in modo radicale e in cui le gomme sono andate dietro a questa evoluzione. Ecco perché oggi abbiamo deciso di ripassare un po' la storia provando 4 pilastri della storia CBR ma non solo, 4 pilastri della famiglia Diablo, Diablo, Diablo Rosso 2, Diablo Rosso Corsa e Diablo Rosso 3 montati sulle moto della loro epoca. Un'evoluzione che ci fa capire come è cambiata anche la guida di queste moto. Tante differenze? Vediamolo in questo video. Un'evoluzione che ci fa capire come un'evoluzione che ci fa capire come un'evoluzione che ci fa capire colow%, sul muta come un'evoluzione che ci fa capire come��are. cemos in questo video. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.